Ok. Prima prova. Di cosa? Poi non lo so. Vediamo. Di fare qualcosa di nuovo online. Ok, ho aperto il canale The Fratus Show. Fatemi girare qua perché sennò mi distraggo. Ho iniziato di nuovo il canale del The Fratus Show con un sistema di montaggio che mi piace tantissimo, molto complesso, l'ho detto centomila volte in quei video. Però l'avventura di Replive, Radio Illusioni Parallele, è nata come metodo di comunicazione, è nata in una stanzina, è nata nel pollaio per fare radio. Abbiamo riscontrato che non funziona in Italia, però quello che ho fatto per dieci anni ormai mi è piaciuto tantissimo. Quest'anno siamo passati al video. Io sento un po' la mancanza di quella sorta di diario costante che era il The Fratus Show come è nato, ovvero un programma radio con cui dialogare. C'era la musica, era un sistema completamente diverso. Ero davanti al mio microfono, con le cuffie, potevo chiudere gli occhi, che è una cosa che mi piace tantissimo fare mentre parlo. Potevo non guardare in camera come ho fatto per probabilmente tanto tempo adesso perché sto riflettendo in questo preciso istante. Non è un copione recitato a parte memoria, a parte abbraccio come faccio con il The Fratus Show. Adesso sto proprio pensando a quello che sto dicendo. Poi in realtà tante volte anche nel The Fratus Show non guardo in camera. Però è un discorso lineare, non come quello che sto facendo adesso. Questo è proprio molto come era il mio programma. Dove ritrovarlo? Boh, non so neanche se sia possibile ritrovarlo tutto quello che ho fatto in questi dieci anni. Come The Fratus Show ci sono tanti podcast su Replive. Probabilmente magari mi metterò anche su YouTube. Perché quello è il fatto? Siamo passati a YouTube. Non tutti stiamo cercando di trovare delle soluzioni anche per altri programmi come il Thunder in Paradise, il To The Club, che fanno più fatica ad arrivare sulla piattaforma. Perché? Perché non sono belli, a parte il To The Club. No, ci sono dei problemi di musica. È ovvio che sono programmi nati e strutturati sulla musica. È difficile portarli sulla piattaforma che li ascolta, riconosce i proprietari e non ti permette di monetizzarli. E' quello il problema? No, assolutamente. In questo preciso istante non ci interessa il discorso della monetizzazione perché siamo troppo piccoli, la stiamo gestendo in una maniera molto diga, se non ce n'è mai fregato un cazzo della parte economica, stupidamente. Lo dico io per primo, forse ci avessimo pensato prima in questi dieci anni, oggi forse Replive sarebbe qualcosa di un po' più strutturato e complesso. Però, vabbè, a parte quello. È difficile perché se avessimo la garanzia che tutti i pezzi che passiamo non permettono di monetizzare i video, lo faremmo subito. Il problema è che molti pezzi, soprattutto per assurdo, i pezzi meno conosciuti e di autori molto più piccoli, hanno delle policy di condivisione e di utilizzo del lavoro talmente serrate che non ci permette neanche di metterlo. È giusto o è sbagliato? Boh, non lo so. Cioè, io lo trovo sciocco, però magari è una visione un po' più limitata. Quindi, comunque, ci stiamo adoperando per farlo. Non è che io non riesca a fare The Fartus Show perché passo le mie giornate a giocare ai videogiochi, visto che spesso viene citata questa cosa come esempio di negatività, o neanche quanto mi piacerebbe perché passo le mie giornate a leggere libri e fumetti, che da sempre sono le mie passioni. No, non riesco perché ci sono 3.000 cose da fare in RIP, non abbiamo la forza economica per assumere delle persone, lo facciamo tutti come volontari, questo mi porta molto spesso a sobbarcarmi un mare di lavoro che sarebbe bello poter dare a qualcun altro e liberare tempo e spazio per crescere. Quindi è un cane che si morde la coda, mancano i soldi e quindi non possiamo avere i soldi. Però volevo tornare a fare questi dialoghi aperti con me stesso che poi invece siete voi dall'altra parte di quello che prima era solo un microfono, oggi è un microfono e una telecamera. E non so neanche se lo farò così, perché oggi sto guardando una telecamera con l'obiettivo girato in modo tale da non distrarmi e fare una sorta di monologo. Ma se in realtà sto un pochino coltivando l'idea di togliere per questo tipo di intervento la telecamera e fare un podcast duro e puro, nudo e crudo, non saprei cosa dire, da mettere comunque sempre sul canale YouTube del De Frato Show, magari ritirando fuori il vecchio nome e la prospettiva del verme, e caricarlo solo come podcast, cercando quello sì di farlo quotidiano e riuscendo a tornare a chiacchierare un po'. Mi piacerebbe veramente tanto, come tutte le cose che inizio, non riesco a finirle. Questo è da sempre il mio più grande difetto, forse la mia più grande virtù, direbbe qualcuno. Io dico sempre che è una via di mezzo tra tutte le cose. Vivo la mia vita generalmente sugli estremi, i miei punti di vista sono sempre o bianco o nero, ma in realtà poi strutturo sempre tutto su varie tonalità di grigio. Comunque, questa rubrica, questo programma, questo podcast, questo vlog, qualsiasi cosa sia, non cancella De Frato Show, lo voglio fare, voglio riuscire a farlo perché mi piace tantissimo. Imparo a fare cose con la telecamera e riesco a estrarre dei concetti. Ma mi manca egoisticamente la possibilità di riflettere su quegli argomenti, per poi sintetizzarli magari alla fine come se fosse l'estratto, il sunto della mia settimana potrebbe essere quello del De Frato Show, ma ho bisogno di questi momenti, di fermarmi, perché altrimenti ora sarei a controllare il mail, a controllare tutti i pezzi che ci mandano per strutturare un altro programma, farei un test di prova su Twitch, che è quello che cercheremo di fare per il To The Club e il Thunder in Paradise, e sono tutte cose importanti, per me importantissime, e che mi tolgono il tempo però di fermarmi a riflettere. Quindi ho deciso di provare, una volta al giorno, di prendermi lo spazio di un caffè, che è già in maniera gigantesca stato usato in questo momento, però per ritirare fuori la prospettiva del verme. Come strutturarlo? Boh, non lo so, non l'ho neanche pensato, generalmente, probabilmente sarà l'inizio della prossima puntata del De Frato Show che vedrete, un concetto sul, quando cerco di fare una cosa, voglio arrivarci il più preparato possibile, perdo un sacco di tempo, o forse non è perderlo, non lo so, per studiare, capire, quello che voglio fare, mi toglie delle problematiche, ma me ne crea altre, che sono quelle della perdita di tempo. A sto giro no, voglio tornare come era il De Frato Show, arrivavo in radio, mi sedevo, chiudevo la cabina, mettevo sulla musica, ascoltavo la canzone, mentre ascoltavo la canzone, pensavo cosa dire un attimo dopo. Quindi, lo spazio di un caffè, questo sarà il nostro tempo, che ovviamente ogni volta sforerò, giuro, non prendo caffè americani in questa frangente, sennò sarebbero un'ora e passa, ma voglio tornare a farlo. Non ho detto niente a sto giro, però, vabbè, intanto avete visto un attimino com'è il giro. No, questa inquadratura in realtà l'avete già vista nelle ultime puntate del Back to the Movies, che è quello che è già ripartito, iscrivetevi al canale, e forse anche in quella diretta folle che abbiamo fatto io e Gavri, vedendo un film di Nicolas Cage di notte, qui, perché volevamo testare la registrazione, era appena iniziata la quarantena, volevamo vedere di riuscire a fare quello, non eravamo molto soddisfatti, ma porteremo avanti anche quel progetto. Niente, volevo solo tenervi aggiornati. Incrocio le dita, ci vediamo ogni dì. Replive.it The Next Step The Next Step The Next Step Grazie a tutti